Quando si parla di sfide pastorali in Oceania, bisogna sottolineare che i paesi che la compongono sono molto diversi. Si tratta di un'enorme zona del mondo, gran parte della quale è formata da molte isole del Pacifico, piccoli territori in mezzo all'oceano, dove si trovano quattro conferenze episcopali, Australia, Nuova Zelanda, Papa o Nuova Guinea, isole Salomone e isole del Pacifico. Mentre i problemi in Australia e Nuova Zelanda tendono ad essere piuttosto simili a quelli del mondo occidentale, le isole del Pacifico, Papa o Nuova Guinea e isole Salomone non sono altrettanto sviluppate. Spesso dipendono da aiuti esterni. Per quanto riguarda le problematiche della famiglia, ritengo siano le stesse ovunque, nel senso che ci sono molte persone che convivono prima del matrimonio e si verificano molte separazioni in tutte quelle società. Invece sono per certi versi differenti nelle isole del Pacifico, a Papua o Nuova Guinea e nelle isole Salomone, da dove molte famiglie migrano verso l'Australia o Nuova Zelanda, soprattutto nelle isole del Pacifico, alla ricerca di un lavoro. Ciò comporta che le famiglie siano spesso costrette a lasciare a casa i bambini, che vengono cresciuti da nonni o zii. Si tratta di un problema serio dovuto alla necessità di arrivare a sbarcare il lunario economicamente. Nell'ambito pastorale della catechesi matrimoniale e familiare, le sfide sono probabilmente simili ovunque, come quella di cercare di far comprendere ai giovani cosa sia il matrimonio, un impegno per la vita che si basa sulla sua natura sacramentale e deve riflettere l'amore di Dio. Eppure molti dei nostri giovani non lo intendono.